Dopo il clamoroso successo della passata stagione, torna in scena Strike al Teatro De Servi, commedia diretta da Gianni Corsi con la supervisione artistica di Massimiliano Bruno, scritto e interpretato da Gabriele Berti, Diego Tricarico e Giovanni Nasta. È una commedia ambientata nel cortile di Uncert, che è la struttura sanitaria dove ad oggi vengono accolte tutte le dipendenze, quindi sono tre ragazzi molto diversi tra loro, perché uno è un tirocinante psicologo che sta lì a fare il tirocinio, un altro è uno che è stato beccato due volte con della marijuana e deve fare dei regolari controlli per fare pipì, il terzo con cui vengono a contatto questi due, che è molto diverso tra loro, è un ragazzo di strada che deve fare un serio percorso riabilitativo. Ci piace mandare un messaggio positivo nonostante l'ambientazione dolorosa. Tutti gli argomenti che non siamo abituati a sentire di solito vengono trattati in maniera molto leggera e soprattutto molto maneggevole, perché loro sono veramente 20 e 21 anni, hanno tutti e tre e lo hanno scritto loro e questa è una voce abbastanza insolita. Io non ho mai letto di questi temi, non ho mai sentito le loro canzoni e sono entrato in un mondo che è completamente diverso dal mio e quindi una volta che ho scoperto queste cose ho cercato di realizzarle al massimo del loro potenziale, anche usando le canzoni appunto di Craniorandaggio. Oltre a lui c'è un compositore, anche lui giovanissimo di 20 anni, Munin, che ha composto delle musiche con degli oggetti da camera. Infine c'è un pezzo originale dei Chas Drio, che sono dei giovanissimi rapper. Oltretutto c'è anche la scenografia degli Ambramà, che ha reso simbolico un luogo che in realtà esiste davvero. Fino al 3 novembre al Teatro dei Servi, strike!